Un proiettile da fucile è stato ritrovato nella tribuna dell'Aula Consiliare di Eboli. La scoperta è stata fatta martedì mattina. Immediata la richiesta di intervento da parte del sindaco Massimo Cariello, che contestualmente ha presentato una denuncia contro i gnoti. Il proiettile è stato sequestrato al fine di farlo analizzare. Gli inquirenti sperano di riuscire ad ottenere risposte importanti dalla visione delle immagini delle telecamere piazzate fra il primo ed il secondo piano. Secondo i primi rilievi, il proiettile sarebbe stato lasciato nella tribuna tra lunedì e martedì, non esclusa la pista di una bravata.